tanto questo poi dopo lo taglio nella replica, fate finta siete orgogliosi di vedere queste fantastiche live allora, riaggiungo Gio riaggiungo Roby, riaggiungo Gabriella eccoci, ora vi sento perché avevo mostrato il sedere è nuda, è nuda non sa chi è inquadrata quello lo tengo per me, Gabriele Gabriele, considerando che sei seduta da 36 ore, forse di più è un po' schiacciato il sedere, dici? forse anche, grazie, arrivederci allora, siete carichi Gio, siete carichi? siamo pronti? è stata una giornata lunga anche oggi la mia connessione è fatta di gare io non capisco che cosa cacchio sia sai che Roby, secondo me sei nella stessa cabina Vodafone in cui sono anch'io qui in ufficio e ho chiamato ho fatto lo speed test prima a 90 ho in upload, no in download in upload, quanto hai? adesso lo sto rifacendo col computer col telefono avevo 20 allora deve andare dobbiamo vederti bene per forza per forza dobbiamo vederti bene comunque ho appena fatto un test su Discord ho appena minacciato critico critico? ah scusa, non stavo guardando ho appena minacciato critico ho fatto un 19 siete tutti già su Discord manca solo Gabriella la barra Gabriella premi la barra? oh la barra c'è quello su Discord che cazzo dici? tu cazzo adesso ci sei sì, molto bene molto bene allora spiego un po' a chi magari la prima volta che ci vede scrivete un po' su Discord che mi sa che non sta scrollando ho questa idea allora Discord ho fatto un server al volo che utilizziamo semplicemente per lanciare i dadi con un bot Dice Maiden ci sono mille bot per Discord che si utilizzano in questa maniera qua semplicemente semplicemente perché non volevo cioè non avevamo altro modo per giocare da remoto lo stesso metodo che uso con i miei giocatori anzi non con i miei giocatori io sono un giocatore non sono il master insomma quando giochiamo in remoto e così vedremo sì, scrolla perfetto culo i Tommy merda funziona molto bene grazie Gabriella la duchessa molto bene la marchesa la marchesa come scivolata la corona allora vi ricordate questa qui è l'upload Robby 19 l'upload è buono 19 è possibile io come l'altra volta è più alto del mio quasi adesso si vede bene comunque Robby a parte quando si frizza si frizza come se perdesse la connessione allora abbassa la definizione casomai vai in 480 secondo me ha ragione guru ma sarà il computer Robby? no allora il clipping ve lo spiego io semplicemente qui in streamer non si può parlare insieme quindi fa clipping quando si parla insieme bisogna parlare uno alla volta altrimenti perché streamer di base ha un filtro audio che cancella gli altri quando parla uno quindi no è la cpu l'altra cosa anche se effettivamente siamo su streamyard e non streamlabs quindi la cpu non dovrebbe farti chissà che cosa è un browser una cagata comunque chi se ne frega Robby adesso io ti vedo bene faccio una pinta che funzioni tutto quanto allora faccio un po' di recap velocissimo cerco di essere veloce perché abbiamo sempre poco tempo abbiamo solamente due ore e i ragazzi qua sono lenti come le lumache quindi volevo finire l'avventura magari abbiamo tantissime cose da fare da continenti interi da esplorare personaggi da incontrare mostri da combattere ancora non abbiamo fatto niente fondamentalmente cosa è successo fino ad ora allora stiamo utilizzando un regolamento che assomiglia che assomiglia ma non è di N.D. Vanilla quindi la prima versione di The Ancient Dragons vi ho portato oggi anche una chicca importante che è D&D Bix si chiama questa è l'edizione Bix americana del 1980 per chi segue queste robe è quella nella scatola rosa questa qui era venduta in una scatola rosa io ho solamente i manuali c'era anche Gabriella quando li ho comprati tra l'altro li ho comprati ah è vero sono stata proprio io a fartelo fare quell'incauto acquisto dai compralo esattamente grazie Gabby mi hanno fatto spottonare centinaia di euro io ho sborsato un sacco di soldi per Vampire ti ricordi io ho comprato Vampire che lo usi tutti i giorni ovvio sempre sempre vabbè questa per chi si intende di Dungeons & Dragons è la prima edizione vera di Dungeons & Dragons diciamo che non sia quella versione praticamente stampata in casa da Gary Giegel si chiama Bix ed è non è particolarmente rara ma insomma mi fa piacere mostrarvela in realtà noi ci basiamo sulla mitica scatola rossa di editrice giochi questa qua del 1985 la prima edizione italiana chi ci ha seguito l'altra volta avrà visto che le schede dei personaggi sono veramente molto simili a quelle di di Andy Classico ho semplicemente cambiato un paio di regole questo perché così sono fondamentalmente uno perché come dicevo l'altra volta di Andy Vanilla fa abbastanza cagare in realtà e due perché così nessuno può scrivermi nei commenti no dovevi fare il tiro resistenza al soffio del drago e della minchia quindi facciamo come sta bene a me in più voglio questa è una live per mostrare il gioco di ruolo non per mostrare quanto è figo il regolamento e le tabelline quindi cercheremo di tirare i dadi il meno possibile e di fare insomma e di fare più che altro seguire la storia seguire il master seguire i giocatori la loro interpretazione bla 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 vi ricordo anche che voi spettatori potete e dovete partecipare all'avventura perché io terrò d'occhio i commenti e i commenti più sensati sono ascoltati dai giocatori i giocatori nella loro testa sentono le vostre voci e quindi li metterò a schermo quando avranno senso non so tipo Giovanni sente nella voce that avvelenalo questo è un esempio proprio al volo e poi che altro dire ok detto questo vi faccio anche il riassunto velocissimo della prima sessione i nostri tre prodi erano nel nostro mondo sulla pianeta terra e stavano semplicemente facendo uno stream di ultra pop festival erano lì a casa loro belli tranquilli che stavano facendo uno stream live a un certo punto sono stati trasportati in una qualche maniera magica o non sanno neanche loro come in un altro mondo sono ritrovati in mezzo a questa foresta su questi strani altari che avevano tre diciamo incassi ogni altare aveva cilindrico aveva uno strano incasso con tre forme differenti Gabriella aveva il triangolo Robby aveva il quadrato Giovanni aveva il cerchio escono dalla foresta riescono a raggiungere questa città si ritrovano in questa isola con questa città portuale vengono messi in contatto si rendono conto che in questa isola e in questo mondo vivono tre razze molto diverse tra loro e molto razziste tra loro una razza di umanoidi molto simili agli uomini molto robusti tutti quanti di colore con di etnia africana si chiamano Halo una razza invece di elfi praticamente molto bianchi molto slanciati con delle orecchie molto lunghe si chiamano Ina che cazzo della mini che cazzo della mini e senti guarda il ninja e il terza la terza razza invece si chiamano Furu e sono invece molto bassi sono tipo gli elflings per chi per chi giocava a Dungeon Dragon ma hanno lineamenti asiatici ninja ninja scoperto questo sono arrivati fondamentalmente sono stati portati da questo in questa bottega di questo personaggio stranissimo vecchietto che si chiama Myrdrin perché anche Myrdrin come loro non fa parte di nessuna di queste tre razze quindi è bianco come loro ma non ha le orecchie a punta come lina e non è nero come gli alo e non è asiatico e bassissimo come i Furu quindi gli hanno consigliato di andare a incontrare questo Myrdrin Myrdrin a quanto pare da molto giovane anche lui è arrivato su questo pianeta che abbiamo poi scoperto chiamarsi Trinità e li ha diciamo indirizzati gli ha raccontato che per tutta la vita aveva cercato di scoprire come fare ad andarsene da questo benedetto pianeta aveva capito che non faceva parte insomma del pianeta ma non aveva capito certamente come fare aveva ricercato per tutta la vita diversi oggetti che facevano parte della mitologia attorno a quei benedetti altari e aveva trovato appunto tre oggetti magici che però non gli erano serviti a nulla questi tre oggetti magici erano appartenuti a tre campioni delle tre razze perché? perché esattamente cento anni fa c'è stata questa battaglia proprio su questa isola che si è conclusa con una con una parità tra le razze quando i tre campioni hanno rubato tre amuletti che erano incastrati in quei in quei troni come si dice l'ho appena detto non mi viene più la parola altari non so perché mi viene in quei tre altari grazie Gabri in cui sono comparsi magicamente i nostri prodi quindi sono stati appunto i tre eroi a rubare gli amuleti e aprire questo portale dimensionale sembra quando hanno rubato questi amuleti è scattata quella che viene chiamata la pace della trinità Mirdrin gli ha raccontato che appunto poi le tre razze tranne una hanno hanno vissuto un grande periodo di prosperità gli Ina si sono super arricchiti gli i Furu sono e gli Ina si sono molto arricchiti e hanno padroneggiato tantissimo la magia sono grandissimi maghi i Furu ci sono anche loro arricchiti e sono grandissimi commercianti e famosi assassini gli Halo che sono grandissimi guerrieri però non hanno avuto la stessa fortuna delle altre due razze perché il loro campione invece che si chiamava Elanor invece che tenersi l'amuleto l'ha gettato in una palude qui sull'isola perché era pentito del suo gesto e del intelligente come una betoniera e del suo furto e del suo furto questo è l'antefatto cosa è successo è successo che poi Mirdrin ha consegnato i tre oggetti magici che ha trovato ai nostri giocatori e i nostri giocatori magicamente appena li hanno toccati si sono trasformati nei tre eroi mitici ve li faccio vedere così proprio ripartiamo da lì ce la posso fare devo fare share screen application trinità share allora questi sono gli amuleti che dovranno ritrovare i nostri giocatori e invece invece questi sono i tre eroi in cui si sono trasformati i nostri giocatori Gabrielle è diventata Nellas la maga campione degli Ina Robby è diventato Elanor il guerriero campione degli Halo e Giovanni è diventato un mico il ladro ninja campione dei Furu e anche un po' pirata e anche un po' pirata pirata e gentiluomo esatto vi rifaccio vedere le schede velocemente per chi ci sta guardando per la prima volta sei caratteristiche base che sono le stesse di Dungeons & Dragons da 3 a 18 punti ferita che derivano dalla costituzione costituzione per 2 in basso e poi c'è questo valore di schivare che si utilizza per essere o non essere colpiti quindi chiunque per colpire Giovanni in questo caso che ha una destrezza molto alta un'intelligenza mediamente alta deve fare alto come una banana e oltretutto è anche alto come una banana è alto un metro un metro e dieci deve fare 18 più con un dado da 20 poi Elanor invece è Roby è un guerriero bello forzuto come vedete ha tanti punti ferita è più facile da colpire ma è molto forzuto e ha quel più 2 la forza che si va a sommare ai danni che fa con la sua spada di Elanor e con la sua armatura magica che gli dà anche un più 2 a schivare ma sono stupido come una merda vabbè ma sei stupido come no non è vero sei saggio sei saggio sei saggio sei abbastanza saggio diciamo che 10 è un valore medio 10 è il valore medio per cui è ok per ultima Gabriella è diventata Nellas ovviamente è una maga ha tantissima intelligenza che gli dà che gli danno gli dà tanti punti magia è comunque è difficile da colpire vedete schivare 17 perché il valore di schivare è basato sia sulla destrezza che sulla intelligenza oltre a questo Gabriella spero che tutto te lo sia salvato da qualche parte ha anche una lista di incantesimi perché l'oggetto magico di Gabriella era proprio il libro di Nellas che è un libro di incantesimi la magia è facilissima tutti gli incantesimi impiegano un turno a essere lanciati ha 38 punti magia ogni incantesimo costa 38 punti magia arrivati a 0 punti magia non può più lanciare incantesimi per recuperare tutti i punti magia gli basta dormire una notte di 8 ore oppure ha un incantesimo che costa 2 punti magia che si chiama concentrazione che gli fa recuperare un dado da 6 punti magia gli altri incantesimi si spiegano tutti quanti praticamente da soli tranne il teletrasporto che consente di teletrasportare lei e chi sta toccando lei quindi volendo anche gli altri due in un posto in cui è già stata e che si ricorda molto bene quindi è già stata recentemente costa un botto di punti magia e si può fare solamente una volta al giorno concentrazione si può fare due volte al giorno non di più questo è quello che è successo l'ultima cosa poi mi taccio hanno scoperto appunto che Elanor pentito del suo furto ha gettato il suo amuleto degli halo nella palude qui su Drian che è il nome dell'isola in cui ci troviamo e Mirdrin anche se è un vecchio mezzo matto abbiamo visto l'altra volta non è proprio lucidissimo gli ha consigliato e gli ha detto potresti andare alla palude perché magari ti ricordi dove l'hai gettato tutti e tre hanno dei flash che derivano dall'essere diventati altre persone e quindi guadagnano ogni tanto qualche ricordo di questi eroi in questo caso Roby effettivamente si è ricordato che gettava l'amuleto nella palude ancora non ha ben chiaro dove ma come dicevo l'altra volta prima di staccare magari andando là gli verrà in mente meglio questo è tutto quello che abbiamo fatto l'altra volta e adesso io immagino che voi andiate alla palude di Drian sono un master stronzo e voglio farla veloce anzi non sono un master stronzo e quindi semplicemente siamo alla palude di Drian non sto a farvi cercare il cavallo a comprare il cavallo e a galoppare fino alla palude semplicemente avete diciamo trovato il modo anche con l'aiuto di Mirdrin di trovare tre cavalcature e di muovervi fino alla palude grazie mio vecchio amico arteriosclerotico altrimenti avremo perso altri 20 minuti solamente per arrivare alla palude quindi direi che tutti vogliono vedere sta cazzo di palude arrivati alla palude vedete quello che c'è qui adesso a destra la palude non è non è un bel posto ovviamente come come vedete ed è anche abitata è abitata da degli alo questo ve l'aveva già anticipato in parte Mirdrin e lo scoprite appena arrivati lì è abitata da degli alo che da appunto più di 100 anni da 100 anni abitano la palude perché cercano il benedetto amuleto che la nor ha incautamente gettato e quindi chiaramente gli alo una volta ha capito che le altre due razze stavano prosperando grazie ai poteri magici dei loro amuleti e loro invece l'amuleto non ce l'avevano non gli è girata benissimo i primi anni l'hanno cercato all'infinito in questa benedetta palude ovviamente sono passati 100 anni ora è ancora ricercato l'amuleto ma come vedete insomma c'è questo villaggio un po' diroccato ci sono questi alo piuttosto poveri e poco altro arrivate e vedete quello che c'è anche di endor anche di endor paludoso un pochino un pochino c'è questa nebbia ci si muove solamente in barca nella palude quindi il vostro primo obiettivo adesso capite immediatamente che è procurarvi una una barchetta di qualche tipo per riuscire a muovervi tu Roby cominci familiare cominci a ricordare non così tanto da poter individuare più o meno ancora non ti ricordi esattamente il punto in cui l'hai lanciato però per esempio questo punto qui in cui siete arrivati che diciamo è la prima zona che vedi arrivando dalla strada ti ricordi che è l'ultima zona che hai visto prima di andartene dalla palude quindi insomma cominciano un po' a tornare le cose ok ah niente cerchiamo un'imbarcazione oppure prima di cercare un'imbarcazione forse potremmo fare un giro sulla costa per cercare di capire un attimo di un flash compagni io purtroppo non ho molta di mistichezza con il tuo popolo Eleanor e quindi l'unica cosa che so fare bene è rubare quindi se volete ve la gratto io una barca tu esatto allora tu Giovanni sei utile in due modi uno per portare questa barca quando ce l'avrete anche se anche se va a Remy insomma sicuramente sei 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 quello più schillato nel nell'utilizzo delle barche oppure puoi o cercarla cioè cercare di procurartela semplicemente magari parlando qui con gli alo un carisma proprio guarda di quelli appunto infatti stavo stavo per dire potrebbe farlo anche Roby che è un alo come loro non ti hanno riconosciuto come Elanor ovviamente sono passati cento anni Roby non è che adesso tutti quanti ti indicano guarda è tornato Elanor assolutamente però sicuramente sei quello più a suo agio una cosa che avete notato sia uscendo da Drianne sia arrivando qui è che tutti sono molto stupiti che voi tre girate insieme perché siete appunto di tre razze differenti non avevate mai visto un gruppo come il vostro vi avevo proprio detto che ogni ratta gira per gli affari suoi qui a Drianne che è una città portuale nel mercato centrale avete visto tutte e tre le raste ma mai avete visto un gruppo di due o addirittura tre diversi tra di loro praticamente a braccetto o comunque che girano a cavallo insieme e quindi stareba qua posso guardarmi attorno alla ricerca di una barca più o meno incustodita sì allora vuoi un tiro? no vuoi un tiro percezione? no non serve giri un po' allora intanto non ve l'ho detto è metà pomeriggio vedete che il sole passa ma non è pieno giorno e in più c'è anche sta cazzo di nebbia sembra Rovigo sembra Portotolle in questo momento è un po' Rovigo palude di Rovigo dovevo scrivere e quindi riesci anche un po' Joe a nasconderti tutti questi tiri io non te li faccio fare Joe per me sono automatici trovi una una scialuppina di quelle aremi capottata così buttata subito fuori questo villaggetto la controlli e non sembra avere falle non sembra avere buchi non riesci però a girarla da solo è troppo grande per te se tu sei troppo piccolo devo chiamare la betoniera devo chiamare la betoniera devi chiamare gli altri due andate da lui andate cerco cerco lo sguardo i miei compagni capisco vengo da te e provo ad alzarla sì tu la alzi senza problemi Roby la rigiri ci state veramente al pelo la mette in acqua umico barra Giovanni vi dà un po' di indicazioni su come non ribaltarvi alla alla prima remata rema Roby che è il più forte dietro sta Giovanni al timone e tu Gabriella stai a prua grande direttrice lavori grandissima capocantiere aspetta che non mi così mi sbilano se porti tutto il baricentro in avanti no perché presente le navi quando a prua no che c'è sempre la sirena la polena tu vuoi fare la polena della nostra nave la polena bravo Giacomo va che pua allora cominciate un po' a muovervi anche un po' a caso il senso è avete un po' capito parlando tra di voi il senso è proviamo a girare la palude finché a Roby barra Elanor non gli viene in mente qualcosa il senso è questo qua quindi semplicemente cominciate a remare vi allontanate qui dal villaggetto il resto della palude è molto simile non mi ricordo mi sembrava avere un'altra immagine scusate no niente ne avevo messo solamente una forse l'ho messo dopo ok vi allontanate un po' dal i memo di testa sono improvvisamente passati forse sarà l'aria di questo posto ma non sento più le voci nella mia testa eh lo so lo so adesso arriveranno prima o poi appena appena possibile però meglio così no? meglio così io non 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 nulla questo posto l'ho già visto so che ci sono stato ma è linea piatta concentrati Elanor non si capisce non riesco a capire dove stiamo andando prova a ricordare la grande guerra prova a ricordare la forma dell'amuleto allora arrivate a un certo punto immaginatevi ci sono diverse isolette praticamente insomma classica palude in cui in certi punti la terra è un po' è un po' più rialzata ci sono anche diversi alberi tu Roby a un certo punto quando vedi questa isola non ti ricordi tanto come quell'isola lì in particolare ma ti ricordi che quando hai gettato l'amuleto eri su un'isola simile a questa ma non era questa qua che però che però questo te lo ricordi bene aveva un grande albero al centro di questa io continuo a chiamarle isole ma non sono isole sono semplicemente appunto rialzi del terreno in cui l'acqua non è abbastanza alta per ricoprirla completamente e c'era questo albero che aveva una forma molto particolare che ti ricordi molto bene tipo così con queste due braccia come ad arrendersi come come se si stesse arrendendo l'albero e hai avuto questo flash qua non lo vedi ora qui attorno però non so se lo vuoi raccontare anche gli altri o no comunque insomma almeno sai che cosa cercare più o meno adesso dobbiamo cercare un albero dobbiamo cercare un albero non chiedetemi come faccio a saperlo accordo a quest'albero l'albero secco ma qui non ci sono alberi è una palude come fa ad esserci un albero ci sono ci sono diversi alberi piccoli ma ci sono sì sì non è facile trovare ti ricordi se ha qualche caratteristica particolare questo albero ce ne sono sai mani in alto è come se alzasse le mani immagina che un albero sia una persona con le mani alte non lo vedo qui ma quest'isola mi ha ricordato questa cosa proviamo a navigare ancora proviamo a costeggiare quest'isola nella speranza di vederne delle altre in sta nebbia maledetta ma se usassi tipo la palla di fuoco per fare un po' di luce non disturbare l'acqua allora non so perché l'ho detto ma una reminiscenza non disturbare l'acqua puoi usare la magia quando ti pare Gabriele ovviamente è un mondo magico però non è così comune vedere incantesimi nel senso che tu sai perché sei una maga non lo sai fino in fondo in realtà perché hai questi ricordi no metà e metà potrei dire che ho palla di fuoco scusa tengo la palla di fuoco dalle mani la lanci e basta la tengo la palla la tengo bella tieni la palla tu no non la tieni la palla la mimia iwara delle palle di fuoco la puoi solo lanciare allora non serve un cazzo sta palla di fuoco adesso direi di no che non è il caso di lanciare una palla di fuoco in mezzo in mezzo alla palude attirando tutti i mostri della palude però ci sono se vuoi farlo no 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 ci sono alo in giro ci sono alo no adesso siete abbastanza soli avete remato per una per una buona mezz'ora eh avete così vagando completamente a caso vi siete fermati in quest'isola mentre parlavate sentite rumore di avete allora avete sentito gracchiare per tutto il tempo praticamente è pieno zeppo di ranocchie fondamentalmente o di rano di rospi non so io odio le rane le odio però adesso ne sentite sentite un rumore simile ma molto più forte sempre proprio e piuttosto forte e chi dei tre direi Joe Giovanni ti senti osservato allora la prima cosa che faccio è indossare la mia mascherina per una reminiscenza estrarre la mia katana e giocherello con il contenuto del sacchetto di umico perché ho le shuriken qualcosa ci sta osservando ragazzi allora siete ancora faccio un tiro percezione eh sì l'hai l'hai fatto prima te l'ho fatto fare io così ed è per quello che ti ho detto che siete osservati e vi ricordo che siete ancora sulla barca la barca è appoggiata all'isola potete o scendere o rimanere sulla barca o cominciare a remare e andarvene come vi pare ehm ho un cattivo presentimento Eleanor ho un gran brutto presentimento esci le lame esci le lame qualcosa mi dice che dobbiamo andarcene ma qualcos'altro mi dice che dobbiamo scendere allora mentre decidete eh il da farsi vedete comparire uno uno stranissimo uno stranissimo eh essere eh quello a sinistra eh e poi ne vedete un altro e poi ne vedete un altro ancora e dopo un po' vedete quello di destra invece una rana due rani giusto ci sono tre piccoli Marlovug e c'è anche un capo Marlovug che vi viene incontro molto minaccioso siete ancora sulla barca io io non so visto che l'isola è questa eviterei i problemi andrei a cercare l'isola cosa fate? io ho questo istinto dentro che mi dice spaccagli il culo unico spaccagli il culo le rane fanno schifo le rane sono viscida hanno la bocca più larga del culo che schifo Bruno ma perdiamo tempo dobbiamo trovare questo maledetto albero sei sicuro Elanor tua teoria è molto vera ma mia katana esige sangue sangue di rana nella testa sentite sanno nuotare presumibilmente io spero che galleggia non che nuota io spero che galleggia adesso capisco che voi dovete far scatenare tutto il vostro testosterone ma non è meglio prima andare verso l'albero cercare quello che dobbiamo cercare trovarlo e poi voi vi scatenate con le rane come meglio credete che dite? io dico spara palla di fuoco in mezzo al loro chiappe ma che palla di fuoco sempre sulla barca vi do altri 5 secondi per decidere se scendere se partire remando ragionate dove si trova l'albero dove si trova l'albero da nessuna parte non lo so questa isoletta è la location più probabile in cui c'è l'albero magari non lo vediamo magari ci sono solo i resti di un albero ma è molto probabile che sia qui quest'albero lo sento anzi lo dico come 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 chi è come si chiama quello che fa il dottor Seguizara Seguizara allora passate su passate su Discord e tirate tutti e tre un dado da sei l'iniziativa se qualcuno ha dei bonus alla destrezza mi sembra che ce li abbia Giovanni tu hai un più due mi sembra gli altri non mi sembra che nessuno abbia bonus alla destrezza pensate che mi devo ricordare come si fa mortacci sua da quanto tempo che non gioco quattro io perché non lo vedo me lo scrolli Simo porcazza non ha tirato niente merda che schifo merda che schifo ho fatto tre allora quindi hai fatto tre più due cinque no tre in tutto ah ho già cassato eh come non ho com'era com'era non ho sentito bene non c'è su niente tre tre quattro allora tiro anch'io da smartphone aspetta che tiro anch'io eh signor Twitch non si offenda non si offenda no no non c'è su niente allora aspetta non si offenda signor Twitch allora io rollo per gli sgherri che sono tre i tre ranocchi dei piccolini uno di sei e faccio un bel quattro in faccia a voi molto bene sono già primo ok parità aspetta invece questo eh faccio un altro roll per il capo eh c'è qualche bonus il capo di stessa cazzo c'è il capo cosa cazzo vuoi che abbia un rosso ma infatti sì cioè roll uno di sei questo è il capo e ho fatto bel cinque della faccia molto bene molto bene allora aspetta guarda che culo eh aspetta aspetta ma ragazzi chiamogli un caccio in culo che volano esplodono con la pressione dai allora prima a muoversi è il capo Murlowog che carica e voi siete tre coglioni ancora sulla barca e quindi carica e vi rovescia la barca ve l'avevo detto che dovevamo andare direttamente sull'albero donna la donna lo aveva dire a tua sorella prima di donna dal linguaggio volgare tu non capisci arte di combattimento in acqua e perdete perdete il turno quindi arrivano gli altri tre Murlowog e vi attaccano quelli piccolini uno per uno allora rollo prima torno di là è un po' un casino non è proprio facile fare sta cosa allora aspetta ma i punti li stai tenendo tu o li dobbiamo tenere noi? entrambi entrambi sì ho dimenticato perché ho cambiato location aspetta chiedi la cosa io vado a prendere il quaderno dove mi ero segnata tutto Antone posso dire una cosa perché io ho fatto quattro loro hanno fatto tre i Nani hanno fatto quattro poi il ciccione è arrivato cinque ha vinto lui ma non dobbiamo rispondere eh no allora quello era il tiro iniziativa era il tiro iniziativa sì scusa non l'ho spiegato come funziona il primo tiro che si fa in combattimento è il tiro iniziativa quello dà l'ordine di azione chi fa di più agisce per primo e quindi in questo caso attacca per primo io ho fatto cinque ero il primo a muovere eh ho fatto quello che ho fatto voi avete perso il turno perché vi ho girato la barca e adesso eh non potevo fare un tiro salvezza io grazie alla mia destrezza per poter saltare dalla barca in corsa ma se io non fossi stronzo sì avresti potuto farlo però purtroppo sono uno stronzo quindi non te l'ho fatto fare mia lama si abbevererà del tuo sangue eh eh volevo cercare le vostre cazzo di schede allora il primo che attacco è eh facciamo Roby è uguale devo fare tredici o più tu hai schivare tredici quindi io non ho nessun bonus con questi ranocchi del cazzo eh roll eh un di venti e devo fare eh tredici o più vediamo quanto faccio tre quindi niente quasi ti sei trafitto da solo esatto ho fatto cagare eh poi eh provo Giovanni che punti mi devo to- ancora niente Giovanni che è impossibile no adesso adesso arrivo anche da te Giovanni devo fare diciotto o più per prenderlo santo Dio guarda che che venti che ti faccio nella faccia eh dai diciotto nella faccia no vabbè non ti credo allora aspetta 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 eh questo è culo molto bene guardate come riescono a morire eh allora aspetta questo è proprio tu uomo occidentale di bagni di Romagna tu morire prima di sottoscritto allora eh lancia un dato da sei un cazzo Fabio buono allora rollo i danni roll un di sei faccio cinque danni nella faccia molto bene molto bene allora Gio cancellati cinque danni adesso lo faccio anche io sulla tua scheda sono a quindici punti ferita guarda come muore istantaneo allora venti no non ho la penna ma te lo guarda ve li aggiorno io qua hai visto? si vede? no aspetta ho si scusate ho ti ho aggiornato io la scheda ah le aggiorni la per certo si lo posso fare io chiedo io chiedo l'aiuto di forze ancestrali nella mia testa per avere grande aiuto e grande potenza di minchia per poter uccidere i maledetti bella allora è finito il round il primo a muovere è ancora ma Gabriella non l'ha attaccata? perché c'è la figa ah no mannaggia cazzo giusto non l'ha attaccato Gabriella bravo che me l'hai ricordato anche lei è facile da colpire devo fare 17 o più ma io sono stato attaccato dai non mi rompere il cazzo non t'ho preso Roby non t'ho preso non l'hai preso molto bene allora vediamo se roll un di 20 17 o più 17 che culo guarda quella puttana mannaggia che culo ragazzi guarda quella merda di Tommy guarda quella merdaccia allora sempre un dato da 6 molto bene vediamo quanto ti faccio a te roll un di 6 non ci credo che però questo è il combattimento più facile di tutta l'avventura se morite qui ragazzi vado a casa eh ti ho fatto 4 danni faccio schifo proprio la dissenteria ti meriti comunque tu cara caranellas hai un incantesimo di guarigione tra le tue sì esatto te l'ho messo apposta eh hai un cura ferite minori un cura ferite maggiori ne ha due ne ha due ne hai due quindi potrei allora adesso curo e vaffanculo a te ti curi vabbè sì tanto in realtà ho fatto danni solamente a te non so io cioè la strategia fatela voi l'iniziativa la manteniamo sempre quella e allora aspetta che rimetto ah non fate metà gaming hai ragione ma è difficile hai ragione hai ragione allora io sono un bestialito come una furia cioè ci vedete dentro veramente proprio l'anima di Toshiro Mifune che mi brucia dentro allora l'ordine rimane quello di prima il primo a muovere è il capo quindi il capo che è già lì tra l'altro direi che attacco Robby non ho bonus particolari quindi ci riprovo Robby quant'è che aveva per essere colpito non mi ricordo più 13 cercate di ricordare se no ogni volta 13 sì se no ogni volta devo fare su e giù ah scusa un attimo tu non hai colpito proprio nessuno caro Itomi mi dispiace aiuto perché? cosa ho sbagliato? perché io porto con me il sacchetto di un mico che mi dà un più due in schivare quindi dovevi fare 20 no era già contato eh ce l'hai già ce l'hai già ce l'hai già ce l'hai già in scheda me l'hai già inserito? me l'hai già inserito? e vedi che sarebbe 18 più 12 fa 30 diviso 2 fa 15 no destrezza più intelligenza e 15 sono 17 17 diviso 2 sono 8 no 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 12 più 18 fa 30 diviso 2 fa 15 più 2 fa 17 tu hai 17 non 18 mi sono sbagliato ok però più 1 no più 1 fa 18 più 1 è 18 allora si l'avevo fatto bene era già inserito era già giusto era già giusto grazie grazie ho provato a essere un po' l'amerone ma l'amerone non è accettata ci hai provato ci hai provato allora rollo il tiro per Roby che era 13 giusto? 13 sì 13 o più vediamo roll 1 di 20 aspetta che mi sa che non sono esatto c'è questo passaggio ogni volta di far vedere i dadi che non è proprio comodissimo 10 non ti prendo poi sta praticamente in contemporanea se non ricordo male era Roby che aveva fatto 4 vero? sì a Roby e ai gigetti e poi dopo a Gabriella e poi a Giovanni questo è l'ordine dei combattimenti quindi sta a te Roby puoi attaccare il capo che è lì su di te che ti ha appena attaccato o uno degli altri 3 che sono comunque abbastanza vicini ammazza il capo devi tirare un dado da 20 e devi fare 10 o più ok farò 2 9 9 non lo prendi Roby purtroppo per un punto sei quasi riuscito a prenderlo ma non l'hai preso adesso sta ai 3 stronzetti che vi attaccano no no cioè tu hai finito questo turno adesso sta ad attaccare ai 3 Murlowog quindi ne faccio uno alla volta uno per uno attento Roby 1 di 20 devo fare 13 o più 4 niente attento Gabriella devo fare cos'è te? 17 mi sembra 18 nella faccia ma non posso schivare un cazzo perché giustamente mi attacchi se io faccio 18 no un dado da 6 2 punti ferita per te te li vado a togliere quella puttana della festa della festa non ho detto niente ragazzi allora cioè noi siamo comunque siamo campioni no no devo non c'è dei campioni vabbè dopo mi devo curare qua no bene no bene tento di colpire Giovanni uno all'elemento critico uno con l'elemento critico mi si rompe malamente la lancia ah l'hai già riconfermato quindi fai uno e uno quindi ti si rompe tutto esattamente ok e poi sta a Giovanni no chi era Giovanni l'ultimo sta a te Gabriella a me vuoi se vuoi se vuoi lanciare un incantesimo vi faccio vedere prova a lanciare sicuramente un incantesimo perché mi ha rotto il cazzo questa merda allora non ti ho detto non corro con elfo scurrile palla di fuoco ha un'area di effetto di 3 metri quindi colpisce tutti quelli che sono nell'area di 3 metri e gli fa quei tantissimi danni lì e occhio perché potrebbero esserci anche i tuoi amici in quell'area ovviamente siamo tutti a contatto adesso sì adesso siamo tutti molto vicini siete tutti molto vicini fulmine magico fa molti meno danni però stordisce quindi perderanno un turno quello colpito e poi di attacco non hai altro fondamentalmente no sono solo palla e fulmine ma puoi ucciderli ad insulti o a bestemmie sarebbe bellissimo doveva averlo nell'asco e suo potere tu hai 10 punti ferite su 16 se ti ricordo sì infatti vorrei curarmi ma in realtà devo prima attaccarli o posso già curarmi o posso curarmi hai una sola azione per per rambi la prendo nel culo ovviamente come sempre o o sì o un incantismo di attacco o un incantismo di cura o che ne so o teletrasporto e vi teletrasportate dentro la locagna di Mirdrin e ricominciate da capo esatto allora no la palla di fuoco mi ha detto che però rischio di colpire anche la nove unico se lo facevi prima quando erano lontani no adesso che siete in mischia totale eh Gabriele infatti se ne voleva andare o il meglio Nellas aveva detto andiamo prima a cercare sto cazzo di amuleto e poi pulmine magico vabbè sì pulmine magico eh no per forza posso andare via da solo si può? posso? il culo ve lo meritate il culo grosso ve lo meritate posso andare via da solo badando a quello che voglio fare io no no sei sì cioè non adesso che sei in combattimento dopo se mi dici io me ne vado e a nuoto da solo e abbandono gli altri per me lo puoi fare screzzi già all'interno del gruppo un quarto d'ora gruppo che non esiste dai seguiamo dai quindi cosa fai Gabriele? tira una palla di fuoco addosso a Elanor perché ha già cagato il cazzo incredibile molto bene ha già rotto il cazzo vai di pulmine magico vai di pulmine magico lo tiri eh aspetta al grosso o o uno dei tre ti ricordo che uno è senza lancia e gli altri due sono stanno attaccando stanno per attaccare Jet no aspetta oppure c'è il boss e boh proviamo no vai su piccoletti visto che stanno per attaccare Jet beh ma quello davanti a me si è appena rotto la lancia quindi non mi attacca con niente se non a testate ma attaccherà l'altro ma l'altro ti attaccherà conto di avere eh culo abilità si esatto si si e allora vai col grosso leviamoci di mezzo il grosso ok eh tira direttamente le ferite il pulmine magico fa un dado da 6 non mi ricordo più è il dado da 6 mi sa dimmi quindi è il dardo incantato fondamentalmente si colpisce automaticamente che stordisce si colpisce automaticamente tira un dado da 6 2 allora gli fai 2 punti ferita però lo stordisci eh è certo non ho fatto niente per un round e poi sta a Giovanni molto bene tocca a me allora io utilizzo la mia katana contro il rospo che ho davanti eh a questo punto non so se essendo lui disarmato cambia qualcosa nella sua capacità di difesa no no devi comunque fare eh quant'era eh 7 un cazzo che modificatore ho io che cosa che cosa sfrutto per l'attacco forza o destrezza ah hai anche più destrezza hai anche più 2 all'attacco quindi devi fare 5 o più benissimo e fai un dado di 10 più 1 con la katana più 1 giusto sì ti ricordo che gli shuriken li puoi usare anche a distanza adesso non è questo il caso perché siete ingaggiati però allora il risultato è 6 più 1 7 giusto cioè io ho un di 10 più 1 perfetto esatto colpito tiro un dado da 10 più 1 allora un roll un di 10 più 1 danni 7 7 quindi allora intanto quello che ha che ha perso la lancia scappa 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 e l'altro va a gli hai fatto 7 va a 5 punti ferita mi ricegno io questi qua ok ma questi erano sempre disegnati lufio? no questa è roba questi li ha disegnati google images posso avere l'opportunità di un movimento in questo caso? no hai già fatto l'attuazione nuovo round ricomincia il capo Marlow che attacca ancora Roby ovviamente che devo fare 13 o più roll 1 di 20 sono lentissimo con lo smartphone 11 non lo colpisce poi ci sono rimasti 2 di quelli piccoli attacca quello ferito di Giovanni ritento devo fare 18 com'era sì roll 14 niente e l'altro prova ad attaccare Gabriella quello ancora sano 19 molto bene sapevo che mi dovevo curare mannaggia dai che figa è truccato è truccato è truccato 5 punti ferita per Gabriella molto bene devi curare subito ferite per forza guarda sono rimasta a 5 sono a 5 dio cavolo guarda come muori al primo combattimento allora dai ma infatti sono a merda poi sta Gabriella sta a Gabriella comunque Antonio ti stanno facendo ti stanno facendo notare che il capo l'ho sordito quindi non potrebbe attaccare fail ok cancellate l'attacco a Robby fortunatamente ma ha mancato ma ha mancato perché è scordito bravi grazie grazie che mi tenete d'occhio che la polizia mi twitch la polizia mi twitch sta a te Gabriella mi devo per forza curare perché sennò poi muoio come una scema quindi purtroppo hai 5 su 16 punti ferita cura ferite minori costa poco ma ti fa al massimo 6 e col culo che hai roba che tiri 1 cura ferite maggiori sì allora tira 2 da 6 più 3 allora quindi roll 1 di 6 ce lo devo tirare 2 volte ah ma dai hai fatto 1 eh sì no come è possibile scusa hai fatto 1 di 6 te lo giuro no 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 devi tirare non 1 da 6 devi tirare 2 di 6 più 3 devi tirare ah 2 di 6 ok 2 di 6 giusto più 3 11 è fatto ok torni tirai al massimo quanto è non mi ricordo più adesso guardiamo eh sì esattamente 11 punti ferite ti mancavano quindi torni a 16 ok e invece i punti magia li dobbiamo scalare comunque considera che li abbiamo scalati non abbiamo scalato niente prima hai fatto un funzione magico da 6 adesso hai fatto 14 14 6 e 24 giusto ok sta giù ah io insisto su quello che Catano in questo momento esatto proprio perché attacchi quello ferito siete talmente vicini che puoi scegliere quale attaccare tra il ferito che ti sta attaccando te il ferito il sano che attacca Gabriella o il boss che è ancora stordito lì davanti attacco il ferito così almeno evito un attacco anche se questo è un attacco comunque va bene devi fare cos'era 10 mi ricordo più 11 7 no 7 io ho fatto 11 comunque colpito l'hai preso e tu fai roll 10 più 1 ok 7 7 e direi che muore muore uno dei murlovog piccoli e poi dopo nuovo turno nuovo turno sta il boss attacco Robin ora il boss una volta non è più stordito il boss esatto adesso non è più stordito devo fare amici possiamo farcela contro anfibi creature in mondo devo fare 13 se fossimo andati subito all'albero 19 entro come forse tu hai ragione come niente forse forse come niente forse faccio cagare un dato da 6 fa si ma solo con Roby fai cagare credi questo è perché Roby non ha mai giocato a dire ma sei ancora strano 36 punti ferita questa è la fortuna del principiante un grande classico 11 6 vediamo quanti punti feriti ti faccio Roby eh 1 F6 ho scritto aspetta che non state vedendo forse eh Simo ricordo che ti ha dimmi terminati altrimenti non ne esco da solo grazie scusa un roll un di quindi mi hai preso si t'ho preso adesso ti faccio i danni t'ho fatto alle guarda che il boss però guarda che il boss lascia alle 6 6 danni t'ho fatto molto bene ma il boss non la mica lascia in questo caso cazzo si quindi faccio anche più danni chi era aspetta ragione i Tommy mia moglie che non ha mai giocato a D&D masterizza meglio te lo dico eh vabbè adesso è normale è normale adesso ritiro il dado faccio uno guarda questo è un classico proprio cos'è un D8 lascia si è un D8 aspetta che ti riscrivo 36 prima va se no mi sbaglio ma perché mi riscrivi 36 allora queste sono le ferite che hai ha sbagliato dovevo attaccarti con l'ascia che fa un D8 invece ti ho attaccato con la spada che è quella che hanno i piccolini invece tu sei attaccato dal boss capito allora roll 1 di 8 e faccio 7 faccio cagare faccio veramente cagare quindi vai a 29 ok ok poi poi sta ma chi cazzo sta sta stai piccolini no stai piccolini stai piccolini uno è scappato e ne è rimasto uno solo esatto ce n'è uno solo che attacca ed è quello su Gabri purtroppo esatto attacca ancora Gabriella dove sei che per ora sono al massimo sono 16 su 16 dovrei dovrei 17 cazzo esatto ora lo fai come minimo 15 niente e poi sta a Gabriella sta te Gabri adesso eh no di nuovo il fulmine per forza perché questi due minchioni sono troppo vicini a me perciò devo tirare un di 6 un di 6 su 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 sul tuo sul mio perché tanto ancora non l'abbiamo proprio colpito sì eh sì andrei sul mio più che altro è sano ha 12 punti ferita è sano vengo io ad aiutarti vai tranquilla vai serena uno di sei madonna mia due niente cioè niente fai due punti ferita va a 10 però è stordito il prossimo round ricordatemelo che mi scordo sempre esatto mi devi togliere un po' di magia purtroppo mi devi togliere 6 punti magia io ce l'ho a contatto adesso quello che sta attaccando Gabriella sì puoi attaccare o con lo shuriken quello di Robby se vuoi o con la katana con quello di Gabriella però Robby non doveva attaccare prima di me no Robby è il prossimo round lui è il primo che ah ho saltato Robby ho saltato Robby sono un coglione io non ho ancora attaccato almeno se ho attaccato ho messo una cosa sì attacca te Robby attacca te attacca te sta a te scusate non è facile che cazzo io la spada esatto aspetta che ti metti il tuo personaggio hai la spada di Elanor e devi fare per colpire il rospo ciccione 10 o più io uso un dado da 20 punti sclamativo roll 1 di 20 ok se colpisci fan critico boom critico ok doppi danni allora tira tira 1 di 12 più 2 cazzo che colpo per 2 per 2 quindi 1 di 12 più 2 più 2 giro scrivo già più 2 ok vai rollalo che poi lo moltiplichiamo per 2 9 per 2 18 una bella lasagna bravo bravo Elanor va a 4 guerriero Elanor tu molto creatura interessante che botta che botta scusa che ti ho saltato Robby mi devo segnare il turno se no non ne esco più a chi sta a sto punto a Giovanni a Giovanni esatto esatto allora io cerco con le shuriken di attaccare il grosso capo Murlowog facendo prima però un gesto di grande grande intesa con Elanor e facendogli questa cosa ah si cazzo si ci sta ci sta che gli tiri uno shuriken a distanza e in questo round così ma state shuriken negli occhi devi fare 10 o più ho fatto 2 cazzo molto bene molto male hai tirato uno shuriken in un albero ti rendi conto però non avevi incuriosato gli shuriken prima e adesso ne hai tirati fuori i 3 o 4 così per no per vedere e ti rendi conto che da quel cavolo di sacchetto sembrano non finire mai gli shuriken allora il primo succhia che me si consuma esattamente nuovo round stavolta me lo sono segnato il primo a muovere è il boss è il boss è il boss è il boss i 3 stronzi che ne è rimasto uno Gabriele e Giovanni me lo sono segnato scusate il primo che muove è il boss che tenta ancora di colpire Roby al 13 se non ricordo male 11 20 ho fatto 4 quindi Chules poi sta a Roby sta ancora a te Roby attaccherai sempre lui immagino devi fare 10 o più aspetta mi è sparito il paste ragazzi comunque è grande veramente tutti un grande super abbraccio a tutta la community di Deganerd che ci sta supportando e che se avessi letto metà dei commenti che arrivano veramente avremmo tutti cambiato mestiere un di 20 devo fare un di 20 devi fare 10 o più sì 17 lo prendi molto bene adesso tira i danni della tua arma che fa un botto non mi ricordo più quanto un dado da 12 più 2 fa la spada di Elanor sto cazzo 12 c'ha 4 punti ferita il boss squartalo squartalo 4 muore quando muore il boss l'ultimo dei piccoli scappa va bene starebbe a Gabriella e poi a Giovanni potete fare delle attacche a distanza se volete uccidere il ranocchietto che sta scappando palla di fuoco ma prendo pure voi con la palla di fuoco no sta scappando è già scappato scappalo posso fare alle spalle che cosa da elfo proprio è un po' da codardo però sta roba da elfo da elfo sono un po' di punti magia cercati più che altro lascialo 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 ma si lascialo andare tu Giovanni cosa fai? potresti lanciare uno shuriken se vuoi no guarda io cos'è? aiuto io quando parlo avrò sempre questa cosa sotto d'ora in poi pietà e virtù di forte guerriero lasciamolo scappare da sua madre indegna va bene va bene ok incontro finito molto bene però mi sono accorto di aver conficcato un shuriken su un albero e quindi dico dov'è finita questa shuriken sono certo di aver percepito un albero quindi c'è un albero ci sono diversi alberi come vedi qui a destra ve l'avevo detto anche prima ci sono alberi però voi ne cercate uno in particolare la barca è capottata però se vuoi Elanor Barrerobi puoi rigirarla abbastanza facilmente insomma la rigiro e potete mettervi intanto guarda che c'è Gabriella senti nella testa questa voce che ti dice concentrazione effettivamente i miei punti magia si sono abbassati non ho 38 punti ho 16 punti magia quindi effettivamente potrei recuperare un po' di magia puoi provare che la posso usare solo un paio di volte due volte al giorno sì ok dai magari la provo ok tira un dato da 6 quindi vai a 16 più 6 24 meglio 6 è culo questo è culo fantazia Elanor ricordi qualcosa? questo posto ti è più familiare queste creature sai da dove da qual'inferno escono? no no allora ricominciate un po' a remare in giro e dopo un po' Robby trovi l'albero lo vedi in lontananza prima lo riconosci perché è veramente lui cioè è molto facile riconoscerlo effettivamente sorge su un isolotto insomma un rialzo del del terreno è ancora abbastanza distante ma lo vedi bene che è che è là cosa fate? è lui un amico sei sicuro? al 100% è lui? così sicuro c'è il gas c'è il gas andiamo Elanor io mi fido di te ho scritto 22 io ragazzi 16 più 6 fa 22 eh sì però due punti due punti magia costa concentrazione quindi no a quanto eri? ho sbagliato? sbagliai? ero a 16 ero a 16 ho fatto un tiro ho fatto 6 sul quindi 6 più 16 fa 22 tu hai detto 24 ok allora sei 22 sicuri eh? mi sembrava di forse eri a 18 ma togli ma togli i punti magia per questo quindi allora vai dovrebbe essere un 20 allora allora è 20 esatto devi togliere 2 esatto è 20 ma no 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 le avevo già tolti 2 della punti eri a 18 sei andata a 16 perché hai speso 2 in concentrazione no no ero a 16 non era a 18 ah sì? eri a 16? sì ero a 16 allora sei andata a 14 più 6 fa 20 non so come ho fatto a contare 24 no raga non era a 18 ma come era a 18 ero a 16 perché ho fatto ehm il fulmine magico non è 8 è 6 eh eri a 16 eri a 18 sei andata a 16 più 6 fa 22 giusto? ok ok mi ero tolta io mi ero tolta io due punti è la roba cosa ricordi di questa di questo isolotto con l'albero? è pericoloso? ti ricordi? se incontriamo altri Orlowong potrebbe essere pericolosa? non me ne ricordo i Murrog non so non so che diavolo siano ma mi ricordo quella maledetta isola e quel maledetto albero non me lo dimenticherei mai adesso le mando in quella direzione immagino giusto? sì mi fido di te mio vecchio compagno di redazione anche se non so cosa vuol dire redazione io non lo so se vi darmi o no però è quello c'è qualcosa dentro di me che mi dice che è quello e quindi ok io cerco di percepire se ci sono creature nei dintorni o se c'è del movimento appropinquandomi verso l'isola quindi stiamo remando stiamo arrivando vicino cerco di capirlo allora non ti sembra che ci sia nessuno però non hai una buona sensazione generale diciamo no è sempre Giovanni che ha questo stesso senso di suo diciamo da ninja Nellas Nellas io ho una palla di fuoco nel vuoto verso l'aria così random me la butterei dice ho fatto arrivate fino all'isola arrivate fino all'isola situazione uguale a prima siete diciamo la barca tocca il terreno siete sempre sulla barca scendiamo io scendo scendete dalla barca con la catana sguainata me la tirate un po' insomma nell'entroterra in modo che non se ne vada ti guardi attorno Roby immagino l'albero sì l'albero questo qua riconosci assolutamente il posto l'hai gettato qua l'hai gettato qua ti ricordi anche la direzione però però ti rendi conto che insomma è abbastanza impossibile recuperarlo perché sarà sott'acqua da qualche parte mentre ragionate su tutto questo sentite l'acqua muoversi molto molto forte delle onde quasi e compare questo bel mostro della palude ma che cazzo è ma tolla quanto gli arriva in faccia una palla di fuoco a questo sì beh a questo per forza nella bocca più che in faccia proprio deve andare nella bocca che si deve implodere questo è incazzato nero questo è incazzato nero notate che ha una però abbiamo esatto ha 40 punti ferita ragazzi non importa il busso di culo lo fa noi non ha fammi dire una roba non c'è nel disegno perché l'ha disegnato google images però ha incastrato tra i vari teschietti intanto è altissimo è tipo 5 metri è enorme è sbuca dall'acqua finché venendo verso di voi diventa sempre più alto perché sta uscendo dall'acqua e ha diverse robe incastrate addosso e una di quelle cose ha una ha una luce tendente al verde si vede ed è molto probabilmente l'amuleto di Elanor perché è quadrato lo vedete da lontano Elanor guarda l'amuleto di Halo è lui dubbiamente è lui solo che adesso dobbiamo andarlo a prendere allora è ancora lontano per essere attaccato a distanza se volete per un turno poi dopo vi arriva addosso lui non attacca a distanza quindi io posso attaccarlo io posso attaccarlo palla di fuoco e Shuriken tutti e due esatto sia Gabriella che Giovanni hanno attacca a distanza se volete potete farli assolutamente per forza quant'è questa merda schivare otto beh insomma però dai otto o più allora direi prima Gabriella che non tira nulla se non direttamente i danni fai un botto tra l'altro se non ricordo male quant'è che fai tre di sei tira tre di sei wow what bene faccio 11 14 punti magia occhio che costa la palla di fuoco eh lo so è otto faccio undici fai undici molto bene molto bene mi aspettavo 29 hai fatto un cazzo infatti mi aspettavo molto di più molto bene un cazzo controllatemi sempre su twist che sto facendo i conti a mente sbaglio sicuro come il sole e poi otto più Joe prova a tirare uno uno shuriken dai dai 5 hai fatto pipa acqua hai fatto pipa ricordiamoci per dopo beh niente ok un dato da sei più uno fa comunque e ok nuovo turno adesso è da voi sull'isola io sento però sento una voce qualcosa che dice forse non era ostile forse voleva solo giocare mi manca la cazzo di bandiera pirata dio mio conficcata sulla schiena ok tiratemi tutti quanti un dato da sei per l'iniziativa subito aspetta che t'ho perso allora se avete bonus ovviamente ma sempre solo Joe mi sa che è un più due io ho fatto quattro cinque due no niente è bonus io ho fatto due quindi l'ordine è Giovanni aspetta sull'iniziativa no sull'iniziativa no niente Giovanni Gabriella Mostro no scusa e poi pari merito io e Roby chi ha più destrezza te mi sa io ho dodici tu quanto hai Roby ti ricordi? destrezza dodici pari anche la destrezza e allora mi inventerò che dopo la destrezza si guarda l'intelligenza intelligenza certo io ho sette e tu hai dieci ho prima te Roby e poi Mostro quindi Mostro per ultimo il primo è Giovanni vai Gio allora a quanti metri di distanza si trova ancora il Mostro? ah siete adesso siamo mele contatto ingaggiati già subito porca miseria un round va bene prova ad attaccarlo con la katana ma mi fa molta paura questa cosa ok ho otto più e fai devo stamparme queste cose non mi ricordo mai niente che cazzo sei io continuo a fare cinque è normale che continuo a fare cinque cazzo cinque fai cagare non l'hai preso poi sta a Gabriella cosa devo fare? quello che vuoi hai pochi punti non hai tantissimi punti magia allora ho pochi punti magia ma io come forza faccio cagare ragazzi ma tu non puoi attaccare sei un glass cannon appunto cioè volendo hai un coltello che fa un dado da sei però io direi che ma fulmine magico perché palacuoco colpisco pure voi adesso sì quindi per forza fulmine magico sì non escludere il prossimo turno una nebbia per aiutarci per distrarlo dici? no per aiutarci con la nebbia lui cioè praticamente deve fare ha dei malus nel sì li avete anche voi però io no sono ninja dai mi sa di sì invece io ti consiglio fulmine magico così lo studi no no io faccio ora faccio il fulmine magico ok vai no aspetta ho sbagliato ho sbagliato vai a 8 no ma cosa non ho fatto niente ancora aspetta vabbè adesso lo farai eh sì l'ho scritta male è andato da sei hai fatto sei non sale almeno cioè per adesso hai fatto danni solamente te va a 23 sì ma poi c'è già la nebbia la palude in effetti anche questo sta a Roby cosa devo tirare? eh un dado da 20 devi fare 8 o più un dado da 20 un di dai sei la nostra blindo cisterna ma critico un altro critico ma ma Roby credibile allora tira uno di 12 più 2 Roby allora fai cagare eh te lo dico cagare sì vabbè principiante perciò uno di 12 più più 2 più 2 11 22 a quanto era? a 29 26 quant'era? a 29 no è 23 era a 23 un punto ferita che cazzo punto ferita boom ci avete perso mezz'ora con quei tre minchioni il mostro della palude me lo state tirando giù in due round adesso sta il mostro che non ha ancora fatto nulla finalmente posso attaccare allora attacco io non ho bonus attacco Roby che mi ha fatto un botto di danni devo fare 13 più è più culo che anima è più culo che anima è vero Roby però è giusto così bravo allora facciamo un applauso a Roby dai è l'onore 13 almeno l'ho preso va bene a cagare un bel morso a Roby ma il mostro è stunnato come fa ad attaccare cazzo non attacca non attacca non ci credo dai l'avevo anche preso è perché gli ha fatto un fulmine magico a Gabriella un fulmine magico bella gara cazzo l'avevo preso allora niente nuovo turno Gio arriva 8 più 8 8 è un punto ferita non posso farlo altrimenti e quindi quindi muore il mostro così cazzo come potetevi non sono riuscito neanche ad attaccare cazzo che pippa il mostro della palude è venuto fuori dalla palude grusso ruggire il pettorale e si ha fatto i radici con slappe e secchiate dai dai Eleanor io l'ho ucciso tu adesso ci ravani dentro per trovare l'amuleto perché quella merda io le mani non ce le metto penso io vai vai lo vedevi anche prima ce l'aveva proprio incastrato nel corpo e molto probabilmente diciamo che un mostro del genere è diventato così proprio perché gli si è incastrato addosso l'amuleto fa molto ridere che l'avete ammazzato in un turno comunque fuck fanculo veramente e niente recuperi l'amuleto degli halo ce l'hai non succede nulla ce l'hai la forma è questa qua con l'immagro è quadrato dentro ha questo simbolo che ricorda moltissimo la spada tipica degli halo che è anche la spada che hai tu questa mezza scimitarra e niente lo metti al collo immagino o te lo tieni addosso non so dove vuoi posso chiederti se questo amuleto è più o meno compatibile col forno dell'altare si lo è sembra almeno adesso non puoi saperlo per certo perché non sei all'altare scusate ci ricordano una cosa missione compiuta molto bene dai 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 ora c'è un problema beh beh allora Eleanor c'è un problema perché io purtroppo devo raggiungere l'isola della mia specie devo raggiungere Furukos perché è lì che si trova l'amuleto dei Furu e sarà un viaggio direi decisamente importante dobbiamo farlo dobbiamo farlo tutti a turno prima andremo da Furu e poi andiamo da Lina per forza dobbiamo recuperare tutti gli amuleti non ho la più pallida idea però di come trovare l'amuleto dei Furu chissà lo possiedi in questo momento una volta arrivato sull'isola qualche nuovo ricordo potrebbe accendersi così come è capitato a Eleanor è molto probabile che questo avvenga potrebbe avvenire per ognuno di noi piano piano sento di avere più memoria di quello che ero davvero sì anch'io però potrebbe esserci utile Mirdrin che sappia qualcosa quel vecchio pazzo quel vecchio pazzo del razzo intanto se gli portiamo indietro l'amuleto degli alo mi fa una sincope diventa uno Sputnik parte nell'iperspazio esatto però potrebbe essere il caso di riposarci prima di partire recuperare energia comprare delle provviste perché il viaggio potrebbe essere lungo dovremmo assolutamente recuperare un po' di energia rifolgillarci e poi partire e Roby hai ancora l'amuleto in mano ti ricordo non l'hai ne indossato ne hai messo in una borsa ce l'hai lì in mano lo metto io come Eleanor mi sono trasformato fisicamente che cosa ho adesso non vedo della foto ma ho delle saccocce sì 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 chiaramente sei tutto indossalo provi a indossarlo indossalo indossalo lo metti al collo lo metti al collo e ti senti molto più molto più agile molto più agile perché è un amuleto più tre più tre la destrezza più tre e quindi vai a allora cioè sei un carro armato con i pattini adesso praticamente praticamente sono una TST yeah esatto che appunto lo ribattezzeremo l'amuleto da gas e quindi ora hai anche ricordati hai un più uno ai tiri sulla destrezza però ho un'intuizione amici forse non dovremmo pensare che Mirdrin sia veramente un nostro alleato in fin dei conti sappiamo niente di lui quindi circospezione abbiamo visto che parla con qualcuno e non ci ha ancora spiegato che è quel qualcuno potrebbe assolutamente rivoltarsi contro di noi questa situazione quindi tutto quello che noi dobbiamo fare è recuperare gli altri due amuleti direzione furu esatto però ci serve una nave io però vorrei anche prima rifocillarmi magari comprare anche una katana migliore di quella che ho potete tornare a Adrienne che vi ricordo è l'unica città portuale peraltro è anche l'unico porto quindi siamo obbligati dalla palude non prendiamo niente vi rimetto la mappa di Adrienne mangiamo beviamo dormiamo e poi ripartiamo allora questa è Adrienne per ora avete sempre usato quella strada lì in basso a sinistra e avete visitato fondamentalmente solamente il quartiere degli Halo per ora che è dove c'è la bottega di Mirdrine allora io vorrei recarmi da solo se posso nel quartiere dei Furu per chiedere informazioni su vecchie leggende mistiche che parlano di amuleti che parlano di grandi commerci eccetera quindi mi fa molto piacere intanto a girarmi da solo per il quartiere dei Furu non voglio che i miei compagni ne risentano in un studio del mio popolo sì ok adesso ti faccio fare tutto però succede prima una cosa quando arrivate a Adrienne per la stessa strada sempre a cavallo come ve ne eravate andati e appena arrivate nel quartiere degli halo vedete per strada Mirdrine che vi vede e vi fa una gran festa eeeh i campioni i campioni eeeh siete tornati avete trovato l'amuleto avete trovato l'amuleto l'avete trovato io nascondo subito l'amuleto lo tengo nascosto perché una voce mi ha detto che forse non è il massimo mostrarlo in giro e poi gli chiedo di abbassare la voce e di non farci riconoscere no ma no ma io non volevo urlare non volevo semplicemente voglio aiutarvi voi siete come me state cercando gli amuleti grandi ma quindi nella palude nella palude non avete trovato nulla nulla no ma come non ti sei ricordato Eleanor dove era era un ricordo falso dillo Eleanor no dove credevo di averlo lanciato non c'era ma e quindi adesso e come facciamo io io voglio venire con voi dobbiamo cercare i medaglioni tu vuoi venire con noi tu vuoi venire con noi no eh sì dobbiamo andare da Mera dobbiamo andare da Mera a Furutra a Furutra da Mera per forza eh sì mera abita a Furutra sì eh sì lei sta cercando sta cercando il medaglione di Furu eh sì è il prossimo ma come io pensavo l'avessi trovato quello degli Halo allora ma perché Mera sta cercando i medaglioni ancora non si è stato molto chiaro su questa perché vuole tornare a casa vuole tornare a casa ma non torneremo mai a casa di dove è Mera Mera è come te è di Saronno Rozzano forse Mera Mera è come Mera è come noi come noi sì sì come noi come noi noi non siamo più noi effettivamente mi dai 5 minuti io so chi siete voi in realtà lo so chi siete voi in realtà e chi siamo? eh siete siete come me come Mera sì ma chi sì specifico terrestri no? ha detto terrestri? avete sentito terrestri? io voi l'avete detto voi mi avete detto che venite dalla terra la ricordiamo questa parola? la ricordiamo questa parola? sì sì avete ancora tutti quanti i vostri ricordi di terrestri senza problema allora ciupa c'è un problema se non avete trovato l'amuleto degli alo che ci andiamo a fare da Mera? è inutile dobbiamo pure trovare l'amuleto degli alo no? senti vecchio l'amuleto l'abbiamo trovato e io lo faccio vedere wow molto bello allora ora dovete andare da Mera alla taverna del Drago Rosso a Furutra vi consiglio di andarci al più presto scusate off game io non distingo più Mirdrin da Antonio Moro cioè ormai vedo la stessa personale tipo volume ha cambiato raga prima ha detto dobbiamo adesso ha detto dovete sì dovete andare dovete andare là perché non vuoi più venire con noi? esatto no non vi sono utile io ma prima volevi venire con noi invece? eh perché volevo rivedere Mera ma non ho visto era no ora che so che l'avete trovato tieni fermo Mirdrin tieni fermo Mirdrin voglio che lo blocchi e gli metti e gli metti una mano per terra io tengo fuori la catana e gli tagliamo ma non ce l'abbiamo un bel ma che merda è un povero vecchietto ma non ce l'abbiamo un altro incantesimo per sturargli il cervello mannata parla di fuoco Gabri parla di fuoco la mia catana stura il cervello quanto vuoi brucia il vecchio cosa ci stava nascondendo io estraggo io master estraggo la catana gliela punto e dico cosa ci stai nascondendo Mirdrin no io io non non voglio farvi niente io voglio solamente aiutarvi magari magari riesco a tornare a casa anch'io sono sono cento anni settant'anni che cerco il cazzo di di amuleti non avevo mai visto uno semplicemente sono rimasto molto stupito ho trovato le armi anni fa però quando le abbiamo toccate noi non è successo niente non ci siamo trasformati noi a furutra vengono tagliate le mani a quelli che raccontano menzogne in questa maniera quindi non dico così non dico così te lo assicuro sono tantissimi anni io sono con voi finalmente avete trovato uno degli amuleti potremmo andare a provare a a incastrarlo magari posso tornare io magari posso tornare io potremmo andare a provare a incastrarlo magari funziona anche uno solo vecchio ascolta me prima di sapere che non avevamo il l'amuleto volevi venire con noi adesso che sai che ne abbiamo uno non vuoi più venire ma non lo so non so non so cosa cosa succede non è facile dopo tanti anni non è facile ragionare scusatemi scusatemi non voglio spaventarmi però chiudiamolo in casa io dico ammanettiamolo chiudiamolo in casa leghiamolo e poi quello che sarà suo destino però veramente ascoltatemi è l'unico indizio che è l'unica cosa che potete fare dovete andare a furutra dovete cercare mera la locandiera della locanda del drago rosso andate da lei fidatevi lei è è stata più brava di me magari ha già trovato l'amuleto a quel punto ne avrete due chiamatemi se trovate il terzo voglio tornare anch'io a casa chiamatemi venitemi a cercare call me andiamo raga call me one five 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 meardrine ok va bene io voglio però prima passare vogliamo vogliamo fidarci o non puoi non puoi fidarti ma non puoi neanche fare altrimenti quindi io andrò a cercare andrò a cercare ma non posso straparargli più informazioni col carisma ora si chiama carisma beh con lo charme si puoi tentare ora si chiama carisma raga ai miei tempi si chiamava in un altro modo usa la tua carisma la tua carisma usa la mia carisma puoi fare un tiro su carisma che hai ben dove sei sedici nello c'ho 70 anni sedici hai un più uno al tiro vuol dire che fai un dato da 20 devi fare sedici o meno no aspetta no cassata cassata scusa mi sono confuso devi fare un un tiro lo chiamiamo charm al per Mildrin lo farai al 12 e hai più uno quindi farei 12 o più e hai più uno un dato da 20 un dato da 20 provaci 12 avresti comunque fatto 13 quindi riesci e Mildrin dice sì io faccio quello che vuoi però non capisco quello è il problema posso aiutarti certo leccami gli stivali diglielo 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 ma ci stai dicendo veramente la verità chi è davvero questa asciura di Mera chi è questa Mera Mera è arrivata insieme a me sì è arrivata insieme a me è arrivata insieme a me tanti anni fa da allora cerchiamo i medaglioni insieme però tanti diversi decenni fa ci siamo divisi io ho trovato le armi lei ha cercato di rubarmele però non ce l'ha fatta ma quindi non ci possiamo fidare di Mera se ha provato a rubarti le armi però lei probabilmente ha il medaglione dei Furu per quello sicuramente sa dov'è secondo me è una trappola dobbiamo stare molto attenti alla taverna sono d'accordo che è una trappola per questo voglio cercare informazioni su questa locanda del Drago Rosso tra la mia gente qui nel quartiere dei Furu e cosa fate? ve ne andate? lo mollate lì? mi raccomando andate da Mera ragazzi veramente è l'unica cosa che posso consigliarvi se voi riuscite a trovare gli amuleti magari riesco a tornare a casa anch'io dopo tanti anni non ne posso più di stare qua io andrei comunque oppure lo lasciamo così lo lasciamo così ragazzi allora sempre tu Gabriella che hai tanto carisma puoi farmi un altro tiro uguale a prima sempre al 12 per verificare se Mildrin sta mentendo oppure no mi piace sento qualcosa nella mia testa non riesci a capire non mi ricordo se qualcun altro ha carisma alto io no io proprio no io l'anno prova tu hai più svero quindi devi fare 12 più con un dato da 20 Roby ok 1 2 20 è incredibile un altro critico cosa hai un culo incredibile madonna adesso si sbottona e si mette a 90 Mildrin praticamente Roby ha installato Roby è un hacker e mi ha installato un bot suo dentro al mio server discord e comunque secondo te sta dicendo la verità secondo me ragazzi dice la verità a sto punto accorcerei i tempi cercherei una nave dopo andiamo a furu andiamo direttamente a furu va bene permettetemi solo voi intanto recuperate magari qualche equipaggiamento un po' di cibo io vado a recuperare un po' di informazioni nel quartiere dei furu qualcosa mi diranno anche perché mi serve una barca ti ricordo più che informazioni di recuperare una barca esatto hai detto rubare pensavo di ottenerla un passaggio sì no allora te lo dico già che non riesci a rubare una barca che ti permette di fare la traversata vi ricordo che bisogna andare non in una palute con una barchetta non è che dobbiamo fare la barchetta esatto ma andare da Adrienne che è qua fino a Furutra che è qui a nord di Furucus ma comunque è una cazzo di traversata in mezzo a questo oceano della Trinità per cui non è proprio dietro l'ancolo vado a mercanteggiare tu cerchi informazioni Landmark certo faccio Roby noi andiamo voi due cosa fate scusa io e Nella andiamo a cercare una barca andiamo a cercare la barca voi cercate la barca io vi consiglio di farla cercare a Giovanni la barca che lui è forse è meglio perché il mio popolo è un popolo di mercati allora noi cerchiamo cibo e in caso armi bombe granate molotov kalashnikov coltelli arrugginiti cose del genere insomma ecco guarda là guarda quello guarda io invece ce l'ho piccolina la spadina prostitute prostitute? chi ha detto prostitute? no donne di piacere no non fa per noi questa cosa ok tu Giovanni allora voi avete una borsa con diverse monete d'oro siete non ricchissimi sto parlando con Gabriella e Roby quindi potete e qui c'è il tipo il mercato più grande di tutto il continente lì in mezzo nella piazza quindi potete trovare tutto quello che vi serve senza problemi proprio nel frattempo invece Joe immagino che tu fai il ponte e vai nel nel quartiere dei dei furu giusto? esatto e cerchi un passaggio verso Furutra giusto? e informazioni cerco informazioni quindi immagino di trovare innanzitutto quella che è una locanda piuttosto che un centro nevragico del quartiere una piazza qualcosa sono diverse locande hai anche cominciano anche a fiorare diversi ricordi in questo quartiere specifico di Drianne che era casa tua fondamentalmente o comunque ti ricordi di esserci stato insomma lo conosci è molto diverso dalla la Drianne di oggi è molto diversa dalla Drianne di cento anni fa ovviamente però hai diversi ricordi della della Baia il profumo del mare è la prima volta che arrivi proprio così vicino al mare per cui la Prodo insomma ti ha risvegliato diversi ricordi visto che tu sei anche un navigatore ricordatelo non solamente un ninja sei anche un pirata e o comunque un mercante i furu sono i più grandi mercanti di questo mondo ve lo ricordo io cerco dei capitani cerco delle ciurme delle compagnie di navigazione per esempio di mercanti qualcosa che possa assomigliare a questo perfetto allora chiedi un po' in giro ci sono proprio diversi che fanno esattamente quello che serve a te cioè dei mercanti che collegano i tre continenti e a Drianne che è l'isola in mezzo e fondamentalmente commerciano tra i diversi continenti e trovi un passaggio al giusto prezzo su una barca che si chiama Falco Millenario e che è diretto a Furutra come si chiama il capitano? si chiama Itomi raga pacco pacco non arriveremo mai posso parlare con il capitano con qualcuno della ciurme in questo momento? sì la nave si chiama Falco Millenario ha un grande falco come Polena e il cacero di Pop è verniciato di azzurro è una veloce due alberi che somigliano molto alle caracche del 1500 quelle di Amerigo Vespucci per intendersi quelle di di Colombo ha anche un piccolo castello ha un piccolo castello anche a prua è particolare è una nave molto particolare il capitano è un furo come te e si chiama Itomi Itomi salvi Itomi allora direi che abbiamo un accordo per questa traversata giusto? sì ma contento e comunque è bello vedere un furo vestito come te ti rendi conto abiti tradizionali esatto ti rendi conto che tu hai degli abiti simili ai loro però non sono proprio esattamente uguali in 100 anni sono cambiati e quindi sembri un po' uno vestito di 100 anni fa che però suscita molto rispetto sia in Itomi ma in generale l'avevi già notato capitano Itomi in quanti parsec ha attraversato la rotta di Kessel io collego Drien a Furutra in meno di 12 giorni quindi passeremo saremo molto veloci molto bene senti ma arrivati una volta a Furutra devo trovare un mio vecchio parente che lavora alla locanda del Drago Rosso e sono tanti anni che non ci vado esiste ancora te la ricordi? sinceramente non me la ricordo però ci sono tante locante a Furutra immagino che sia una delle tante sinceramente io non la conosco però non vuol dire cosa trasporta la tua nave? trasportiamo spezie da da Locos le vendiamo qui e poi dopo quello che rimane lo vendiamo anche a Furukus e quanto a mercenari quanto a protezione come siete messi? bande di pirati immagino ci saranno lungo lo stretto che collega Furukus con Adrienne giusto? abbiamo quello che serve i nostri marinai sono anche bravissimi combattenti e se per un accomodamento ci offrissimo noi io e i miei compagni di farvi da scorta e in questo caso il viaggio fosse gratis? chi sono i tuoi compagni? ti stupirà saperlo ma sono un halo e un ina oh no io non credo non credo di voler trasportare l'alo è grosso come l'albero maestro della tua nave ho un solo halo sulla mia nave e dopo un po' lo chiama e si chiama Tsube e è un halo altissimo con una con una pelliccia molto folta ma addosso lui è l'unico halo che voglio sulla mia nave con Bawah con Bawah Tsube rispetto per il tuo folto pelo ma ti fa un cenno ma non non ti risponde non intende non intende non intende va bene tu non tu non trafichi armi vero? tu non ve lo diresti se avessi delle armi a bordo con il quale poter secondo me sei sei un po' troppo curioso per essere un un normale viaggiatore se vuoi io non sono un normale viaggiatore io ho sempre fatto il soldato di ventura mi potrebbe interessare però non ti conosco semplicemente voglio delle monete d'oro a che ora ci vediamo e dove? parto domattina domattina alle 5 salpiamo per Furutra il prezzo quant'è? 5 monete d'oro a testa ma va bene lo segno no no guarda dammi il tempo di segnare 3 monete d'oro a testa no ti ripeto che io non trasporto halo e neanche meno Ina Ina proprio col cazzo che trasporto Ina assolutamente non voglio che tutta la mia ciurba si rivolti contro di me va bene ci vediamo domani mattina all'ora pattuita d'accordo? alle 5 3 monete d'oro a testa benissimo 5 monete a testa ho detto 3 e mezzo 5 a testa per te i tuoi amici e sarà meglio che non siano riconoscibili come Ina e Halo e beh aspetta che mi vado a tagliare le gambe e le orecchie ok io cerco di ricongiungermi in questo momento ai miei compagni se no non finisce più e spero di ritrovarle il più presto e non so come fare a ritrovarli immagino che saranno verso la piazza centrale giusto? siete fottuti chiamali al cellulare adesso chiamali al cellulare attacco Waze attacco Waze Waze ma effettivamente non ci siamo dati un punto d'incontro che testa di minchia sono le testa di minchia tu Joe sai che loro erano al mercato a fare compiere ritorno al mercato ritorno al mercato anch'io e voi siete ancora lì a fare compiere ho bisogno di una catana ho bisogno di una catana si no una palla di fuoco per fare i fuochi d'artificio siamo qui e il mercato è bello grande comunque dopo diciamo dopo un'ora vi ritrovate è sera tardi comunque questo punto abbiamo trovato era già metto pomeriggio alla palude adesso a questo punto è sera andiamo in una locanda andiamo in una locanda andiamo a dormire ci rifocilliamo sì c'è un piccolo problema prima ragazzi quale? allora ho trovato una nave si chiama Falco Millenario e credo che Elanor potrebbe piacerti è un un bialbero molto simile ad una caracca a una nave di trasporto c'è però un problema il capitano deve essere romagnolo qualcosa del genere l'ho percepito dall'accento non ha particolarmente simpatia né per l'ina né per l'iano quindi se volete montare su quella nave o vi intrufolate domani mattina alle 5 il che potrebbe produrre spiacevoli conseguenze qualora veniste scoperti oppure troviamo una maniera di camuffarvi e camuffarvi in maniera pesante perché forse Nellas in qualche maniera potrebbe anche arrivare ad assomigliare quanto a proporzione a un Furu ma tu Eleanor ti arrivo praticamente al bacino io sì mai al mondo ma anche Nellas è troppo alto ma anche Nellas mai mai nella vita come un Furu sono almeno alta piacerà la figa anche ai Furu non lo so ho capito ma sono alta 5 volte quanto sei alto tu anche mia moglie è più alta di me però alla fine ci siamo trovati lo stesso sono tutti Furu sulla nave? no c'è un mercenario che ha un halo particolarmente grosso e robusto devo dire la verità indossa una pelliccia credo tipo rituale o qualcosa del genere e non mi sembra di grandi parole però potremmo cercare di raggiungerlo forse magari Eleanor potresti parlare con lui potrei provare a parlarci? si chiama Ciube probabilmente otterresti più risultati di quanto ne ho terruti io tentare non nuoce direi che è l'unica nostra strada guarda io posso fare una cosa posso introdurmi nella nave questa notte sottrargli la pelliccia tagliargli la gola e consegnare la pelliccia a te a quel punto tu non saresti più è la merda no la posso fare è la merda sei io devo tornare a casa da mia figlia io devo tornare a casa sono per una strada di sincerità non ce la posso fare a fare una roba dannazione quanti soldi vogliono? vogliono 5 monete d'oro a testa e se ne ne diamo di più? avete più o meno in tasca ve lo dico io più o meno in tasca avete 7 monete d'oro ognuno diamogli quello che abbiamo eh ma dove dormiamo stanotte? voi non mi avete detto che avete comprato nel mercato però avete comprato qualcosa o no? ah vedi che al mio padre il mercato compro eh abbiamo comprato qualcosa per forza è la no che abbiamo fatto io ho comprato un bambino ciube non si tocca un bambino hai comprato un vestito da furu quando è successo tutto ciò? c'è un furu c'è un furu c'è un furu ciao Nic ciao Nic le pozioni costano un casino ragazzi veramente costano un casino cerchiamo di procurarci almeno qualche kit di pronto soccorso delle provviste Medici l'abbiamo già comprato in realtà volevo sapere dal master se abbiamo 7 monete d'oro a testa considerando che abbiamo già comprato provviste e altre cose o con quei 7 monete d'oro dobbiamo comprare delle provviste per il viaggio avete ancora 7 monete cioè le provviste costano un cazzo se mi dici no ho comprato uno scudo ti ricordo che tu per esempio non hai uno scudo che invece potresti avere uno scudo costa anche 1 o 2 monete d'oro o anche 3 dipende dalla qualità dello scudo e Gabriella potrebbe comprare non so potresti comprare un libro di magia che ti insegna un nuovo incantesimo per esempio io ho un pezzo di armatura anche se forse mi appesantisce però un'arma migliore a parte che ho ancora i miei funghetti e non vedo l'ora di cospargerli sulla mia lama io comprerei uno scudo però qualcosa mi dice che dobbiamo offrirgli tutti i soldi è l'unico modo per prendere il passaggio credo che sia non lo so oppure c'è la via del sangue oppure c'è la via del sangue io non sono da sangue però io sono un assassino scusate off game ma sono un assassino non ho aggiornato lo schivare di Elanor ha ragione adesso hai 15 15 più 10 fa 25 diviso 2 fa 12 e mezzo che si arrotonda 13 più 2 dato da l'armatura diventa 15 e più 1 no niente 15 non so mi sento in un vicolo cieco cosa facciamo ragazzi io potete provare anche intrufolarvi questa notte nella barca proviamo dai ma non vuoi proprio provare a parlare con Coso potresti provare a parlare con De io vorrei provare però ricordati una cosa Elanor se Ciube non ti dà retta nella testa sentite una voce che vi dice uccidete l'alo uccidete l'alo giusto giusto nella testa di tutti però non sono perché tranne Elanor un halo buono e un halo morto un'altra voce vi dice Nella su usa teletrasporto ti ricordo però Gabri che però non mi ricordo esatto non posso non ti ricordi possiamo andare a vedere la nave ti teletrasporti possiamo andare a vedere la nave e ti teletrasporti nel momento in cui la nave è già prodata a cosa frutra questo potrebbe essere è un po' è un po' una roba questo è metagame però è un po' non sarà così facile salire sulla nave secondo me io andrei prendete l'alo e prendete il suo posto povero ciube usate l'altofuoco sulla nave usate l'altofuoco ma dopo non abbiamo una nave cazzo revenge senti Anto dai i miei funghetti provocano conseguenze letali o solo qualcosa più simile alla paralisi sai quello che ti ha detto Myrgin che sono molto velenosi basta molto velenosi oh io mi fabbrico una cerbottana glieli sparo in faccia e quello che succede succede se addormentiamo mezza ciurma a ciube povero ciube ma guarda che in realtà quello da sticcare non è ciube ai Tommy che è un dannantissimo è una piccola amnetta per tante di diamanti se no provo a incantarli io vi lascio discutere per 30 secondi arrivo subito e torno subito è un furu è un furu non potrai mai incantarlo ti odia ti detesta se mi dispiace non potrai farcela io concedo ad Elanor la via della diplomazia qualora non funzionasse però dobbiamo cercare la via un po' più diretta funghetti 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 dentro il rancio grande caga sotto cacca molla per tutti viaggio distruttivo però dai non è una maniera ci arriviamo nel frattempo cerchiamo di concentrarci cosa dice la voce che ho nella testa mio dio in effetti però il problema se cercassimo una nave alo il problema si porrebbe comunque come Nellas eh ma abbiamo cercato volevamo andare a cercare una nave ma poi ci è stato detto no la nave la deve trovare ubico abbiamo un po' mollato ecco ho tornato scusate allora siamo arrivati in fondo io stavo pensando che volevo fare un colpo di stato ma in realtà nel prossimo panel c'è Gabriella vero? porcazza volevo fare un colpo di stato ma non lo posso fare e quindi siamo fottuti ci torneremo a cercare sabato ragazzi sono adesso 20 sabato la dobbiamo finire cioè io sabato veramente voglio uscire proprio cosparso di sangue non mio possibilmente sabato abbiamo tre ore e allora considerate dopo sei tu quello che è impegnato sabato sei tu quello che è l'ultimo panel con Luca Ward io? ah sì cazzo sì adesso vediamo come fare potrei giocare almeno in un'altra maniera sto giro perché il primo capitolo finisce quando voi arrivate a Furutra e quindi in realtà in due sessioni invece che giocare due capitoli abbiamo giocato un capitolo quindi manca tutto il secondo capitolo e tutto il terzo capitolo e questo è il capitolo come tutti i panel di Ultra Pop non lo finiremo durante Ultra Pop non è detto non è detto non so se io li ho finiti tutti io li ho finiti tutti giuro fin adesso li ho finiti tutti io farò seconde parti notevolissime seconde parti comunque la prossima volta in una qualche maniera arriverete a Furukus e inizierà il secondo capitolo e poi vediamo io vi ripeto ancora una volta che Luca facciamo giocare Luca Ward sicuramente sarà un attimo narratore adesso invitiamo Gabriele Menetti secondo me Menetti si fomentano un poco a giocare a D&D ah gli faccio fare un PNG che sarebbe figo allora posto grazie a tutti ragazzi direi che siamo arrivati in fondo purtroppo chiediamo al pubblico vi state divertendo vi piace c'è qualcosa che dovremmo cambiare migliorare fatessi capire che vi state divertendo ragazzi porca miseria doveva esserci Nellas con gli abiti succinti abbiamo avuto Elanor con gli abiti succinti abbiamo purtroppo fatto questa cosa grazie grazie ragazzi mi fa molto piacere che vi sta piacendo l'avventura e ancora non è successo niente niente è successo dovete andare da Mera la locante del Drago Rosso e poi anche i nini capito allora sono i 51 andiamo che Gabriele deve pisciare io voglio fare solo una cosa però roll un di 20 più 1 ancora 5 no è impossibile ho fatto 5 per 3 volte e per 3 volte Roby ha fatto 20 quindi c'è qualcosa che non funziona mi dispiace si fai molto cagare questo non funziona purtroppo allora lo rifaccio un'altra volta roll sport del gioco di ruolo sei il migliore adesso ho fatto 4 per puttana sei cintura nera di gioco di ruolo cintura nera di sminchia di niente è schifo tira un dado Roby se fai 20 siete direttamente a Furutra vi teletrasportate a Furutra 1 di 20 no lo capisci che c'è qualcosa che non funziona con discord è vero non ti posso credere come? no matematicamente è possibile tirare tutti i bimbi è impossibile dai c'è qualcosa che non scorda allora mai l'ho detto dai ma è vero hai sbagliato è scritto di no no hai fatto giusto hai fatto giusto 19 vabbè allora state discutendo state dopo chiudo state stavate discutendo su cosa fare e però a un certo punto siete avvolti da una luce e vi ritrovate magicamente grazie a un teletrasporto lanciato da non sapete chi al porto di Furutra siete al porto di che fortuna che fortuna bello siete a Furukus e ricominciamo a giocare sabato questo è molto bene abbiamo saldato tutto quanto il viaggio durante 12 giorni con il capitano Tomy il falco millenario ho scritto 10 pagine per niente grazie Roby per il futuro del cazzo comunque va bene lo stesso va bene siamo a Furutra adesso facciamo un bel ride da multiplayer va bene esatto ragazzi rimanete qui ovviamente perché adesso retiunificate c'è Mainetti giusto Gabri Gabriele Menetti pronti per sviscerare lo chiamavano Gabriele Menetti molto figo io Valentina e Emanuele Greg che mi sta scrivendo adesso mi sta pure bestemmiando immagino ok noi stacchiamo ragazzi passate sul multiplayer adesso facciamo già fatto il va già fatto già fatto il ride sta avviando il ride fatto complimenti a tutti bravi bravissimi soprattutto a Eleanor perché Eleanor rulli violenza veramente ci vediamo domani visto come si fa a giocare Gio mica come te che ti ricincio lui tira 20 io tiro così ciao a tutti a domani a domani 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 grazie 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 grazie